Finalmente il 15 riapre la commissione d'inchiesta regionale. La commissione d'inchiesta della Regione Veneto sul crack delle banche popolari si rimette al lavoro. Riapre il prossimo 15 febbraio dopo essere stata chiusa nell'aprile del 2016. La prima commissione regionale non aveva la possibilità di accertare alcunché, perché non aveva potere parlamentare. Ora, siccome i documenti sono disponibili dalle procure, sicuramente può approfondire questo disastro in modo da dare forza alle vittime da reato finanziario ed evitare che il futuro succeda ancora a questi tipi di catastrofi. Mai più catastrofi finanziarie, ma questo è il futuro. Adesso bisogna pensare anche al passato, alle vittime del crack. Per questo i risparmiatori hanno già una richiesta che inviano direttamente al presidente Luca Zaia tramite questo messaggio su Rete Veneta. Chiederemo di costituire e di istituire un fondo assieme al governo e con la Regione in modo da salvare il sistema economico del nord-est.